Le streghe che si apagano, ma non fa che si va, pensamenti... Luca Patrone, siamo alla prima, si potrebbe dire così perché siamo al Teatro Salvini, in realtà Partì e Scherzi è la prima della serie di appuntamenti con l'associazione Nicola Ferrari Onlus, si comincia sempre con un convegno, con approfondimento per far ricordare che sì c'è musica, festa, piatti tipici, vini, degustazioni, pallapugno, tutto quello che si vuole, ma c'è prima di tutto solidarietà, ricerca. E' informazione, sì, come hai detto giustamente te, questo è il secondo anno che vogliamo aprire la nostra tre giorni con una conferenza, perché appunto riteniamo che nel momento in cui sia possibile sia veramente una cosa importante, fondamentale, e fare informazione alla popolazione. Un inizio direi veramente importante perché saranno con noi questa sera due probabilmente fra i più importanti esponenti della ricerca a livello italiano e anche europeo, nell'ambito della ricerca amatologica, in particolare pediatrica, che sono il professor Carlo Dufour e il professor invece Maurizio Miano. Una serata speriamo possa essere ovviamente, come dire, utile per la popolazione, per quel che riguarda l'informazione, ma avrà anche un piccolo stacco di musica, quindi speriamo di dare anche un pochettino di musica e di diversità alla serata con il Teco Strio, che anche qua ringrazio, per la loro presenza qua questa sera e poi andremo avanti allora sabato e domenica con altri due giorni veramente pieni di eventi. Dottor Carlo Dufour è il direttore dell'amatologia del Gaslini di Genova, un ospedale che non ha bisogno di presentazioni, ormai anche lei non ha bisogno di presentazioni perché è diventato piacevolmente di casa. Qui a Pieve di Teco, in questo territorio imperiese, che sente molto vicino il Gaslini, c'è uno scambio in questo senso di solidarietà e oggi però volete fare anche un po' il punto sulla ricerca, volete anche dire quello che state facendo, anche con il sostegno di Pieve di Teco e di questi amici. È un piacere e un onore sentire queste parole, essere considerato un pievese, se così si dice. È un piacere e un onore che io condivido e che mi colpisce e mi emoziona. È un appuntamento alla quale teniamo, quest'anno siamo venuti in tre e siamo molto contenti di averlo fatto per essere di nuovo in contatto con la comunità pievese e per così portare l'aggiornamento su quello che è il sostegno concreto e importante che la Valle Pieve e la Onlus Nicola Ferrari ha dato alle nostre attività. Sono stati finanziati studi clinici che riguardano le molecole nuove nelle leucemie, e vi daremo un ritorno. Abbiamo reclutato un buon numero di pazienti, siamo stati il primo centro reclutatore in Italia e all'interno di una graduatoria che vede l'Italia terza nel mondo, parlando sempre di malattie rare. Quindi questo è un ritorno che diamo volentieri alla comunità che ci ha sostenuto in questa operazione. Dottor Maurizio Miano, dirigente medico sempre dell'ematologia del Gaslini, Lei arriva da Cincinnati dove è andato a approfondire nuove malattie, purtroppo rare, ma presenti, che possono colpire anche i bambini. Ora al Gaslini state cercando di mettere in pratica quello che lei ha visto negli Stati Uniti. Sì, io ho trascorso lì poco più di nove mesi, un periodo che è stato molto utile per approfondire molti aspetti di alcune patologie in ambito ematologico, pediatrico e uno dei più importanti ospedali pediatrici americani. Stiamo cercando di importare tutta una diagnostica che sarà molto utile per noi, per il Gaslini, ma anche per tutta l'Italia, perché sono delle metodiche che attualmente vengono utilizzate fondamentalmente in ambito di ricerca. Noi stiamo cercando di importarle per applicarle proprio alla clinica, quindi alla diagnosi dei pazienti e che permettono, con un notevole risparmio di tempi e di costi, di fare diagnosi di patologie genetiche. Quindi con un singolo esame è possibile approfondire tutti i potenziali difetti genetici che possono essere alla base di una patologia di un bambino.